Ricordiamo che un piano nello spazio può essere individuato in tre modi. Il primo modo è quello di assegnare un punto appartenente al piano e un vettore ortogonal ad esso non nullo. Un secondo modo è quello di assegnare due vettori che siano fra di loro linearmente dipendenti e paralleli al piano, oltre che un punto appartenente al piano stesso. Ed, infine, l'ultimo modo è quello di assegnare tre punti non allineati fra di loro. Vediamo ora di risolvere un esercizio del secondo tipo. Si è dato un punto e due vettori. La prima cosa che dobbiamo fare è innanzitutto mettere il vettore v1 in termini delle sue componenti, 2, meno 1, 1. Lo stesso facciamo col vettore v2, 1, 1, 0. Ricordo che queste componenti sono esattamente i parametri direttori dei due vettori. A questo punto possiamo subito scrivere il piano in forma parametrica. Quindi dovremmo scrivere x, y, z che è un generico punto del piano in funzione di due parametri. Allora, vediamo che forma ha la forma parametrica del piano. Allora, innanzitutto mettiamo le coordinate del punto assegnato. Andiamo a sfruttare adesso i parametri direttori del vettore v1. t è il primo parametro. Adesso andiamo a sfruttare i parametri direttori del secondo vettore più 0, dove q è il secondo parametro. t e q sono reali. A questo punto possiamo chiederci quale sia la forma del piano cercato in termini di forma cartesiana. La prima cosa quindi che andiamo a fare è, ad esempio, isolarci dalla terza equazione t. Quindi, vediamo terza equazione, t è uguale a z meno 1. Dalla seconda equazione andiamo a isolare q, q che sarà uguale quindi a y meno 3 più t. t. D'altro canto sappiamo che t è uguale a z meno 1, quindi inseriamolo. quindi q sarà y più z meno 4. Dalla prima equazione, quindi, possiamo trovarci il piano perché abbiamo l'espressione di t e di q. Inseriamoli quindi nella prima equazione, come ho appena detto, x è uguale a meno 1 più 2 per t, quindi 2 z meno 2 più q, cioè più y più z meno 4. A questo punto possiamo quindi semplificare e dire che x è uguale a y più 3 z meno 7. Questo ci porta quindi a scrivere che x meno y meno 3 z più 7 è uguale a 0, che è l'equazione del piano cercato in forma cartesiana. Vediamo ora un esercizio del terzo tipo, dove vengono assegnati tre punti non allineati. La prima cosa che dobbiamo fare è immediatamente scrivere l'equazione generale del piano, ossia ax più by più cz più d uguale a 0. A questo punto sostituiamo in x, y e z questi tre punti. Ciò che otterremo sarà un sistema. Cominciamo! Dalla prima equazione ricaviamo b. Dalla seconda equazione ricaviamo a. dalla terza equazione ricaviamo d. A questo punto sommiamo la prima equazione con la seconda. otterremo così a più b uguale a 2b. Le altre due rimangono praticamente uguali, salvo il fatto che andiamo a sostituire a d, la sua espressione, semplificando e quindi questo vuol dire che è uguale a 0. A questo punto, riassumendo, abbiamo a uguale a 2c, b uguale a 2c e d uguale a 0. Abbiamo tutti gli elementi per poter scrivere il nostro piano. A è uguale a 2c per x più b è uguale a 2c per y più cz più 0 uguale a 0. Siccome c è diverso da 0. Siccome c è diverso da 0, possiamo dividere tutto per c. A questo punto otterremo quindi la nostra espressione finale 2x più 2y più z uguale a 0, che è l'equazione del piano cercato. Essendo d uguale a 0 osserviamo quindi che tale piano passa per l'origine. Grazie a tutti.